Grazie a tutti. Ando! Ehi! Uno. Bravo, il suo discorso è un'altra vita. Sono partiti. 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, S-S-S-Sette! S-Sette! 5-SON-SETTE! S-S'6! 2-0! 5! Quando era? 3. Non guarda! Non vuoi scegliere di mano? Pronti? Via! Wow! Avanti!